Avrebbe inoltrato via WhatsApp video e fotogrammi di propaganda jihadista palesando una esplicita attività di istigazione a commettere i delitti di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo ed attentati terroristici. I carabinieri del ROS hanno eseguito lo scorso 15 dicembre a Bari un decreto di fermo disposto dalla DDA dell'Aquila nei confronti del 31enne pakistano Arslan Faiz. Il fermo è stato convalidato dal giudice e il competente GIP di L'Aquila su richiesta della procura ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare a carico del Faiz con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Le indagini hanno documentato un rapido ed intenso processo di autoradicalizzazione islamica che aveva assunto connotazioni estremiste di natura salafita e una continua attività di propaganda apologetica tramite Facebook consistente in post e commenti a favore dei metodi terroristici e delle vittorie delle milizie talebane. Lo straniero già residente a Francavila al mare da circa tre anni e impiegato come autolavaggista era stato precedentemente colpito in data 18 agosto scorso dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica emesso dal prefetto di Chieti e si trovava perciò in attesa dell'esecuzione del rimpatrio coattivo.